L'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e i sindaci dei comuni di Signala, Strassigna e Campi Bisenzi hanno firmato tre accordi di programma per affrontare il problema del traffico nella Piana Fiorentina, migliorando e integrando alcuni tratti di strade locali collegate con le viabilità regionali. Complessivamente sono stati destinati all'operazione 14 milioni e 700 mila euro. Diciamo che il procedimento diventa irreversibile, queste opere si faranno, si tratta, come ho appena detto, di opere molto importanti per quanto riguarda una realtà che è particolarmente bisognosa di veder decongestionare il traffico da centri abitati e di avere una facilitazione di collegamenti con le grandi arterie, la Fipili da una parte e la strada regionale 66 dall'altra. Tutti e tre i sindaci hanno espresso soddisfazione per gli accordi. Si parla della variante alla Via Roma, noi a differenza degli altri due comuni abbiamo già iniziato su un lotto i lavori, i cantieri in corso, questo ci permetterà di arrivare alla conclusione della variante alla Via Roma, è un accordo importante. Grandi, importantissimi, centrali direi perché si tende a completare l'anello intorno a Campi, quindi queste sono riferite in particolare alla circonvalazione ovest, cioè quell'asse viario che correrà parallelo alla Via Barberinese e quindi servirà ai campigiani, a Campi, ma tutto il traffico di attraversamento della nostra città che è tanto, essendo campi baricentri da Firenze, Prata e Pistoia. Quelle grande soddisfazione quando si firmano accordi anche così consistenti perché si tratta di 5 milioni di euro, quindi sono tanti soldi, siamo soddisfatti e ci auguriamo che la progettazione, tutte le offerenze di servizio che ci saranno da ora in poi abbiano un esito positivo e veloce per poter avviare i lavori il prima possibile.